Buongiorno Luciano, che ha fatto quest'anno il 13 agosto? Felice agosto, se non mi sbaglio, non stavo al mare, ma perché me lo chiedi? Perché è stato un giorno veramente eccezionale, che si ripeterà solo tra cent'anni. Vai Jessica, un'altra delle due stranizie, ma piuttosto non dobbiamo parlare del figuracci dei? L'abbiamo fatto, ma per svelarlo dovete venire sabato pomeriggio.